Dicevo che è un onore per me essere qui oggi sulla nave ammiraglia di operazione Atalanta, la missione marittima dell'Unione Europea che nasce per garantire libertà di navigazione nelle acque che bagnano il corno d'Africa, nasceva per combattere la pirateria e oggi fa molto di più, contrasto al traffico di armi, contrasto al traffico di droga, voglio dirvi che è soprattutto però per me un privilegio avere la possibilità di guardarvi negli occhi e di dirvi grazie, grazie a nome mio, grazie a nome del governo, grazie a nome del popolo italiano nel suo insieme. Grazie per la vostra professionalità, perché quella professionalità è la forma più straordinaria di eccellenza e di diplomazia che l'Italia possa avvantare nel mondo, grazie per i rischi che correte e che correte per garantire sicurezza, pace, stabilità, libertà a persone che in fondo neanche conoscete, banalmente perché sapete che è giusto farlo. Perché diciamoci la verità, non ci sono compensi adeguati per alcuni lavori o per alcuni incarichi, non sono scelte che si fanno per interesse, sono scelte che si fanno solo quando lo impone la nostra coscienza. E a me ha fatto sempre sorridere il fatto che spesso si definisca in coscienza quello che muove le persone che non agiscono per un tornaconto personale. Perché è esattamente il contrario. Solamente la coscienza può spingerti a fare qualcosa che va oltre te stesso, che va oltre il tuo personale interesse. Qualcosa che è giusto oltre quello che è giusto per te. Ed è invece in coscienza quello che dice ad alcune persone che vale la pena vivere una vita nella quale si rincorre qualcosa che non ha un valore reale, no? Perché quindi in fondo non ha neanche un senso. E voi questo lo sapete bene. È esattamente questo che vi porta tre mesi lontano da casa, lontano dai vostri famiglie, lontano dai vostri figli, a perdere momenti che non torneranno. E io ne so qualcosa, nel mio piccolo, diciamo, so bene che non è facile e so bene anche che a volte un banale grazie detto oltre la circostanza fa tutta la differenza per persone così. Allora grazie. Grazie a voi, grazie alla vostra coscienza, grazie alle vostre famiglie. Grazie. E vale ovviamente anche per il personale che lavora nella cooperazione, insomma per altre persone che fanno un lavoro preziosissimo. Nel mio ufficio a Palazzo Chigi c'è un piccolo balcone che fa angolo. È soprannominato la Brua d'Italia e a volte molto spesso, anzi quando lo guardo penso proprio, mi viene da pensare proprio ai marinai, no? Mi viene da pensare proprio a voi perché in fin dei conti la metafora ha un senso. Anche l'Italia è una nave bellissima, un po' mancata, ma è ancora la nave più bella d'Italia. E anche l'Italia sa, come sapete voi, che non puoi sapere quale sarà la tempesta che arriverà, ma sai che quando arriva quella tempesta l'unica cosa che ti può consentire di domarla è avere una rotta, è avere una guida solida, è avere un equipaggio coeso e capace. E a me davvero piacerebbe che l'Italia imparasse da voi a sapere affrontare la tempesta remando tutti nella stessa direzione, facendo ciascuno la propria parte quando la tempesta apriva. Ed è esattamente questo il motivo per cui sono molto fiera di essere qui oggi, perché spero di poter prendere quello che avete voi e provare a trasmetterlo anche fuori da qui. Grazie ancora per il vostro lavoro.